Nel corso dell'anno 2022 un bilancio sicuramente positivo anche alla luce dei pensionamenti che abbiamo avuto nel corso dell'anno. Infatti abbiamo avuto pensionamenti importanti perché abbiamo avuto due sotto ufficiali che sono andati in pensione e un istruttore amministrativo andato in pensione e un agente si è spostato perché vincitore di concorso da comandante in un altro ente. Nonostante questo l'attività con un'opera di ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali di personale segnati siamo riusciti a raggiungere obiettivi superiori in tutti i settori. Nell'ambito della polizia stradale sono leggermente incrementate le sanzioni e i relativi controlli. Nell'ambito commerciale si sono addirittura quasi raddoppiati. Le segnalazioni a cui siamo riusciti a evadere tramite la sala operativa sono aumentate di 1000 su 2000 per cui è un dato anche questo abbastanza importante. Poi ciò che comunque da questo report emerge è sicuramente un'attività che stiamo svolgendo forse per il primo anno in una maniera abbastanza incisiva che è quello per l'appunto del contrasto dell'uso delle sostanze stupefacenti e dello spaccio. Da qui sono state 22 le ispezioni antidroga. Abbiamo effettuato 9 perquisizioni domiciliari dalle quali sono scaturite comunque il deferimento alla prefettura di ben 8 persone per uso di sostanze stupefacenti. Una persona è stata arrestata per spaccio, 5 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per spaccio e 12 sono stati sequestri di sostanze stupefacenti. Un'attività nuova di cui comunque ne vado orgoglioso personalmente con i miei uomini che ripeto il nostro ruolo, il ruolo della polizia locale è veramente un ruolo a 360 gradi. Magari gli altri corpi di polizia quando escono hanno dei compiti specifici mentre noi quando usciamo veramente il nostro controllo spaccia, va diciamo da un controllo stradale allo spaccio di sostanze stupefacenti, a un controllo commerciale, a un controllo edilizio e questo presuppone comunque anche una preparazione sicuramente superiore perché quando le materie sono tante presuppongono uno studio e un amore per quel lavoro sicuramente più grande. Di quanto persone ne avete bisogno? Ma allora si potrebbero fare delle distinzioni, bisogna capire dove si vuole arrivare. È chiaro che per mantenere lo stato attuale, quello che abbiamo adesso, chiaramente si potrebbe parlare sicuramente di 10 persone a cui necessariamente dovremo comunque far sì che si preveda comunque la sostituzione del vicecomandante che sta per andare in pensione, di un istruttore direttivo contabile che basta sostituire quello che è andato in pensione e poi almeno 7-8 unità che si fanno raggiungere a queste due o tre per far sì che si possa mantenere. È chiaro che poi se l'obiettivo vuole essere qualcosa in più, se l'obiettivo vuole essere ipotizzare un terzo turno della polizia locale con un turno 19-01-18-24 è chiaro che occorrerebbero molte più persone. Si parla anche molto spesso di telecamere, per quanto riguarda la videosorveglianza ci sono novità? Sì, le telecamere comunque stiamo ponendo in essere delle azioni che vanno in un doppio binario. Il binario che è il binario delle telecamere a lettura targhe per cui con riconoscimento OCR, telecamere intelligenti che nel momento in cui nel sistema vengono comunque inserite le targhe in blacklist, ogni passaggio di quelle macchine comunque avremo un riscontro degli alert che arriveranno presso la polizia. La polizia locale è anche a supporto delle altre forze di polizia perché l'attuale sistema di videosorveglianza viene messo a disposizione anche delle altre forze di polizia che quasi giornalmente ci vengono a chiedere l'estrapolazione dell'immagine o l'inserimento di targhe in blacklist. Qui a questo sistema di lettura targhe c'è un sistema parallelo che è il sistema delle telecamere di paride per cui là invece abbiamo delle immagini, delle riprese che sono di contesto e in ultime come sapete abbiamo inserito delle telecamere anche nelle frazioni come Nepezano, Villa Mosca, abbiamo implementato i giardini di nasseria e potenziato alcune zone come Piazzetta del Sole.